Mare fuori 4 da record. Pensate che la Rai è stata costretta a emettere un comunicato nelle prime due ore da quando è stata rilasciata la quarta stagione su RaiPlay nella notte tra il 30 gennaio e il primo febbraio dicendo che c'è stato il boom di visualizzazioni anche rispetto allo scorso anno e alle passate stagioni della serie. Ma andiamo con ordine e spieghiamo cosa è successo da quando è uscita ufficialmente la quarta stagione di Mare fuori, anzi sono usciti i primi sei episodi della quarta stagione di Mare fuori quindi in questo video faremo un attimo un recap di quello che sta succedendo, di quello che è successo e di quello che dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate andando anche a spiegare quando saranno disponibili le altre sei puntate della serie anche perché sono dodici episodi che compongono la quarta stagione di Mare fuori. C'è da dire che poche volte avevamo visto un'attesa così spasmodica per una serie italiana e la Rai come dicevamo ha emesso un comunicato in cui ha spiegato che nella mezzanotte tra il 30 gennaio e il primo febbraio c'è stato il boom di accessi oltre un milione di visualizzazioni delle prime puntate della serie su RaiPlay per un totale di 420.000 ore di visualizzazione totali degli utenti che si sono visti in molti casi anche tutte le sei puntate che erano state rilasciate dalla Rai sulla piattaforma streaming quindi voglio dire è un numero incredibile e anche i vertici Rai stanno festeggiando questo risultato perché in questo periodo la Rai non se la sta passando bene lo stavamo raccontando anche su Ciaccheazione e diciamo che Mare fuori è uno di quei prodotti che ancora tira e parecchio e a tal proposito vi annunciamo che sono già in produzione la quinta e la sesta stagione. Il grande successo conferma la straordinaria capacità della Rai di narrare il nostro tempo questo è il comunicato dei vertici Rai che è stato pubblicato subito dopo l'uscita delle prime sei puntate di Mare fuori 4 ed è evidente che si è rivelata anche vincente la scelta della Rai di mandare prima in streaming le sei puntate iniziali della serie e poi farle vedere anche in prima serata su Rai 2 e mandare la seconda parte della stagione in streaming in una data diversa lo aveva già fatto per la terza stagione e per alcune stagioni precedenti e quindi si è rivelato un format vincente per la Rai e per questa serie che veramente ci sta appassionando come poche altre devo dire la verità anch'io molto appassionato di serie americane mi sono fatto prendere anche dal fenomeno Mare fuori e devo dire che poi ve l'ho raccontato anche in altri video e abbiamo fatto degli approfondimenti dove è stata girata dove si trova il carcere minorile che viene mostrato nella serie è davvero un carcere trovate tutti i video che ho realizzato a riguardo sul canale YouTube e Facebook di Ciacchiazione la vera domanda è quando escono le altre sei puntate che me le voglio bere, mangiare tutte insieme come ho fatto per le prime sei di Mare fuori 4 dico subito che in questo video non farò spoiler ma la domanda vera è quando potremo finire di vedere la quarta stagione anche perché un episodio tira l'altro quindi vogliamo subito sapere che cosa accadrà ai detenuti dell'IPM e a tutte le vicissitudini che abbiamo imparato ad apprezzare durante il corso delle precedenti stagioni e anche questa quarta stagione parte a bomba con tantissimi intrecci che devono trovare una loro quadratura nelle ultime puntate ma in questo video non faremo spoiler anche per rispetto di chi ancora non l'ha vista o preferisce vederla quando arriverà solo ai due dico subito che la prima e la seconda puntata verranno trasmesse sentite bene su Rai 2 in prima serata il 14 febbraio a San Valentino nello stesso giorno però furbescamente la Rai ha deciso di rilasciare anche le altre sei puntate in streaming cioè le ultime sei della quarta stagione quindi ricapitoliamo il 14 febbraio a San Valentino vi ritroverete su Rai 2 in prima serata i primi due episodi della quarta stagione di Marefuori con la pubblicità eccetera 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 se invece avete visto già i primi sei episodi o non volete aspettare o ve li volete rivedere insomma potete farlo tranquillamente il 14 febbraio su Rai 2 in prima serata però nello stesso giorno annunciamo che la Rai ha deciso di rilasciare anche le altre sei puntate della quarta stagione quindi nello stesso giorno proveremo tutta la stagione su Rai Play e in prima serata invece inizierà la messa in onda degli episodi con le prime due puntate di Marefuori 4 va sottolineato che le prime due puntate erano già state fatte vedere a qualcuno durante la festa del cinema di Roma ne avevamo parlato anche in un video precedente dedicato a Marefuori 4 e in particolare alle anticipazioni, alla trama e ad alcuni spoiler che avevo fatto in un video precedente dedicato a questa serie le prime due puntate erano state fatte vedere durante la festa del cinema di Roma è ovvio che la maggior parte delle persone se non è andata fisicamente alla festa del cinema non ha potuto vedere i due episodi e quindi se li starà guardando sicuramente in streaming su Rai Play o se deciderà di aspettare il 14 febbraio per vederli in prima serata su Rai 2 e non c'è dubbio che il finale di Marefuori 3 ci aveva lasciato con questo fastidiosissimo cliffhanger come si suol dire anche perché eravamo rimasti con Carmine, Rosa Ricci e Don Salvatore Ricci che si trovavano in questo sotterraneo dove si erano visti di nascosto proprio Carmine e Rosa e da cui insomma avevamo capito che c'era un innamoramento, un amore vero, una nuova storia destinata a cominciare a un certo punto arriva Don Salvatore con una pistola in mano, si ode uno sparo e poi la videocamera si sposta senza farci vedere chi è stato colpito, chi ha sparato soprattutto e quello che è successo di teorie ne sono uscite tante, di anticipazioni ne abbiamo fatte tante, di possibili vicissitudini e evoluzioni di questa fase della serie, non parleremo come dicevo anche perché per rispetto per chi ancora non ha visto le prime puntate di Marefuori 4 non diremo nulla ma comunque faremo il punto su chi c'è, chi ci sarà nella quarta stagione, chi torna e chi purtroppo non fa più parte del cast. Ancora una volta alla regia ci sarà Ivan Silvestrini che è riuscito a portare avanti l'ottimo lavoro iniziato da Carmine e Delia nelle prime stagioni della serie e tra i personaggi che comunque rivedremo per forza di cose ci sono quei tre di cui parlavamo prima Carmine, cioè l'attore Massimiliano Cagliazzo, Rosa Ricci, Maria Esposito e il padre Don Salvatore Ricci ma anche perché dobbiamo capire che cosa è successo in quei sotterranei quindi è evidente che tutti e tre i personaggi al di là di come sono andate le cose di quello che è accaduto lì sotto, torneranno anche per un'apparizione all'interno di Marefuori 4 Oltre a loro c'è un altro piccolo cliffhanger, cioè la storia di Edoardo Conte l'avevamo lasciato sul letto d'ospedale che apre gli occhi all'improvviso nella classica del cinema americano con l'apertura degli occhi sul letto di morte all'ultimo minuto della puntata cercheremo di capire che cosa succederà a Edoardo destinato a vendicarsi, desideroso di vendicarsi di chi gli ha sparato e ha cercato di ucciderlo nel finale di Marefuori 3 ovviamente ci saranno Cardiotrap, Pino, Opazzo, il comandante Massimo, il mitico Beppe e tra le ragazze ritroveremo Cubra, Silvia, la nuova direttrice del carcere Sofia interpretata da Lucrezia Guidone e ci saranno delle new entry di cui avevo già parlato anche nel video precedente e che scopriremo come si muoveranno all'interno dell'IPM dove tutti i ragazzi stanno crescendo e quindi stanno passando dalla fase adolescenziale all'età adulta. Chi non ci sarà saranno Filippo Ghiattillo e Nadizza che abbiamo comunque salutato nella terza stagione della serie così come l'attrice Carolina Crescentini che faceva Paola la direttrice dell'IPM di Napoli ma come Liz, come Oviducchio che hanno tutti abbandonato il cast chi per un motivo e chi per un altro. Fatemi sapere se avete già iniziato a vedere gli episodi della quarta stagione di Marefuori, ditemi cosa ne pensate e iscrivetevi al nostro canale YouTube, ve lo dico sempre, attivate la campanellina per restare aggiornati su tutti i prossimi video che riguardano Marefuori 4 faremo degli approfondimenti e delle curiosità molto interessanti nei prossimi giorni quindi continuate a seguirci per restare aggiornati e non perdervi neanche un video siamo anche su TikTok, lo annuncio anche per chi non lo sapesse ci trovate anche su TikTok, su Instagram e su Facebook dove tutti i giorni diamo news, anticipazioni, notizie che riguardano il meraviglioso mondo del cinema e delle serie TV al prossimo video